Dopo l'ottima dinamica del 2023 con un più 10,2%, le esportazioni dei distretti abruzzesi proseguono sullo stesso trend di crescita anche nel primo trimestre del 2024 con un più 13,8% e con un totale di 204 milioni di euro di vendite sui mercati esteri, ben 25 in più rispetto al primo trimestre dell'anno scorso, mentre gli altri distretti italiani arretrano leggermente per 1,2%. Secondo i risultati dell'analisi periodica curata da Research Department di Intesa San Paolo, tutte le filiere dei cinque distretti regionali monitorati hanno contribuito positivamente al risultato. Un dato che non deve sorprendere spiega ai nostri microfoni l'economista Pino Mauro. Emergono tre elementi essenziali, il primo elemento è un processo espansivo dopo alcuni problemi che si sono verificati al domani della pandemia. È in secondo luogo che i nostri settori trainanti confermano la loro capacità di stare sui mercati internazionali, mi riferisco soprattutto ai mezzi di trasporto, all'automotive e c'è questo fatto nuovo di crescita anno per anno che è il farmaceutico, che fa fare una spinta in avanti alla provincia dell'Aquila in maniera direi oltremodo significativa. La terza considerazione è che nonostante tutte le vicende, questo contesto di permacrisi, di continua crisi che c'è nel contesto internazionale, ecco l'Abruzzo manifesta una certa competitività sui mercati internazionali perché le sue imprese di eccellenza tengono bene. Per il professor Mauro le prospettive per la nostra regione in fatto di esportazioni dovrebbero essere positive anche per l'inizio del nuovo anno. Credo che questa tendenza verso l'alto continuerà, certo ci sono fenomeni geopolitici soprattutto di grande trasformazione però penso che il nostro tessuto produttivo in particolare delle grandi imprese sia particolarmente competitivo. C'è un aspetto nuovo che vorrei aggiungere che è questo, che alcuni settori tipicamente tradizionali, che sono tutti settori tipicamente abruzzesi radicati nel territorio, hanno andamenti significativi. Un esempio per tutti è il test dell'abbigliamento che riprende la sua capacità espansiva dopo anni di arretratezza e penso anche ai distretti della pasta e a quello del vino.